Rockstead modello Izem Come tutti i modelli arriva in una scatola in legno contenuta dentro un potere di cartoncino la scatola contiene il coltello e istruzioni e garanze il modello, abbiamo detto, è Liden la carcassa è in alluminio colorato nero, duro alluminium e uno scheletrato Frame lock clip posteriore in arcena 402 l'apertura è a singola mano il coltello è abbastanza lineare con una forma abbastanza bella la lama è in XYR7 con una copertura in titanio da questo lato troviamo il logo del costruttore il nome del coltello in giapponese e il numero di serie il linear il frame chiude abbastanza bene c'è un piccolo incavo per la chiusura l'apertura e chiusura sono abbastanza scorrevoli lo scatto è molto secco c'è una leggerissima ziglinatura sulla lama la lama non si vede bene ma è di colore violetto davvero molto bella, particolare e mi ha mandato a te Rockstead Eden l'apertura